Sapore di vittoria, Somma Lombardo, dove il Comune ha voluto premiare il concittadino Riccardo Privitera, campione di hockey con i suoi mastini. Noi volevamo donare, a nome del Consiglio Comunale, una tabbia iscritta a Riccardo Privitera, mastino sommese della città di Tanevoli. Per il mastino un doppio motivo di vanto, Coppa Italia è campionato, ma anche le migliaia di spettatori conquistati è un legame indissolubile con i compagni di squadra e la tifoseria. Soprattutto anche per l'incremento del pubblico che c'è stato da settembre fino alla finale, abbiamo fatto una media di mille spettatori a partita, quindi possiamo essere veramente soddisfatti di tutta questa stagione. E poi ripeto, meravigliosa perché l'ho vinta con dei miei compagni di squadra che sono anche amici di una vita, quindi una stagione pazzesca veramente. Il rapporto col pubblico è stato speciale perché siamo tutti una grande famiglia, quindi finita la partita si stava al bar a fare due chiacchiere con i tifosi, è capitato magari una cena tutti insieme, o comunque anche in autogrill ci ritrovavamo con i pullman, facevamo un po' di festa, quindi è stato tutto naturale e quindi molto bello. Grazie. Grazie.